La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con il premio che va all'avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto del lavoro, consulenza. Il premio va a Andrea Di Francesco, studio legale BDL. Per la grande esperienza, la competenza e il supporto al cliente, in particolare nell'ambito del diritto del lavoro, per il costante raggiungimento degli obiettivi attraverso soluzioni personalizzate e innovative. Complimenti Andrea Di Francesco, avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto del lavoro, consulenza. Siamo in compagnia dell'avvocato Andrea Di Francesco, studio BDL. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera Gabriele. Buonasera a voi. Ecco, questa sera ho ottenuto il riconoscimento per la seconda volta consecutiva come avvocato dell'anno nella consulenza del diritto del lavoro. Un commento a questa vittoria? Beh, diciamo, ecco, voglio dire, innanzitutto, vabbè, devo ringraziare sicuramente il gruppo delle fonti, la business community, che naturalmente diventa sempre più importante e più rilevante nel mercato italiano per questo riconoscimento e per questa, diciamo così, determinazione di voler dare questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Quando ci sono questi tipi di riconoscimenti, magari c'è da una parte l'aspetto, diciamo, più della soddisfazione dell'ego, no? Che è quella, diciamo, di avere questo riconoscimento quale soddisfazione personale. Peraltro questo coincide un po' quest'anno anche con il traguardo di 25 anni di professione, quindi, insomma, questo premio va anche un riconoscimento di un'anzianità professionale, ma anche al fatto che si possa in qualche modo, come dire, apprezzare con una testa diversa, con una mente diversa. Però io quello che poi penso e che spero è che un riconoscimento a un lavoro fatto, a una professionalità, a una capacità di sostanzialmente risolvere i problemi nelle tempistiche che ci chiedono i clienti e soprattutto nella trasformazione sempre continua di questa professione. Talvolta risolvere problemi in tempistiche molto rapide non è semplice, quindi credo e spero che sia anche un riconoscimento nei confronti di quella che è un po' il background giuridico e anche alla capacità di aggiornamento continuo. Chiaramente non è che lo considero un traguardo, ma sicuramente una tappa della professione che mi stimola a fare sempre meglio e diciamo in questo senso voglio ringraziare appunto sia le fonti che la business community. Tra l'altro volevo dire una cosa, c'è qualcuno che dice vincere troppo si diventa antipatici, ecco no, non vorrei essere antipatici, non fa parte della mia natura, ma piuttosto lo considero appunto, ripeto, un tagliando per andare sempre meglio insomma, ecco, e fare sempre meglio. Ecco, in cantiere o comunque dovrebbe esserlo la riforma dello smart working, ricordiamo la legge sul lavoro agile è del 2017, quindi pre-covid. Le chiedo quali sono gli aspetti positivi di questa legge e quali invece i suggerimenti per cambiarla? Ma guardi, allora io penso sostanzialmente questo, penso che una buona legge sullo smart working oggi come oggi debba puntare molto sul concetto di flessibilità, cioè dovrebbe dare delle linee sicuramente guida fondamentali ma poi lasciare alla devolvere alla contrattazione collettiva quella che può essere proprio la regolamentazione dello smart working all'interno dell'azienda, un po' uno smart working tailor made perché sappiamo che ogni azienda ha una sua particolarità e poi ci sono aziende che hanno una maggiore produzione di attività immateriale dove lo smart working si può fare e invece ci sono delle aziende dove invece c'è una predominanza diversa di un'attività materiale e quindi dove c'è necessaria per forza la presenza e quindi l'attività di smart working può essere anche limitata. Detto questo credo che si debba fondare su dei pilastri, mi pare che il protocollo del governo di fine anno lo abbia sostanzialmente anche sottolineato alcuni di questi pilastri. Io li vorrei ribadire, da una parte il diritto alla disconnessione perché non possiamo pensare che una persona possa essere iperconnessa per l'intera giornata, diciamo quindi dobbiamo sicuramente dare una fascia orale nella quale come nell'attività in presenza la persona deve non rispondere o comunque deve non lavorare e quindi deve riposare. Poi abbiamo il concetto secondo me di privacy che è molto importante perché qui si connota due aspetti, cioè l'aspetto naturalmente dello svolgimento di un'attività attraverso un tablet e quindi con tutto quello che può riguardare il flusso di dati e dall'altra parte anche il fatto di una specie di controllo dell'attività svolta. Poi il problema anche questo che secondo me non è una questione irrilevante della tutela della sicurezza perché siamo in un altro, non siamo nel luogo di lavoro ma in un altro luogo tra virgolette di lavoro che può essere la casa, che può essere un altro posto e quindi siccome c'è una responsabilità del datore di lavoro vanno sicuramente misurate queste responsabilità. Inoltre il concetto anche dei costi perché si è parlato dei costi, garantiamo un ticket restaurant anche a chi fa smart working, magari diamo la possibilità di rimborso delle spese e dell'energia che sappiamo in questo periodo importante o comunque dell'internet per svolgere questa attività è anche un altro tema ed infine soprattutto credo la parità e l'uguaglianza di trattamento tra chi non fa smart working e chi lo fa perché naturalmente i lavoratori indipendentemente dalla modalità dell'attività lavorativa devono essere trattati allo stesso modo. Ecco la prospettiva futura è il lavoro ibrido tra modalità in presenza e in remoto e le chiedo anzitutto cosa ne pensa e se ritiene che le aziende effettivamente stiano cambiando organizzazione e fisonomia appunto per adeguarsi a questa nuova modalità di lavoro. Ma allora guardi, cioè sul concetto di lavoro ibrido ecco dobbiamo fare innanzitutto riferimento al fatto che dicevo precedentemente, cioè dobbiamo stare molto attenti a non creare delle discrepanze tra attività e aziende che devono per forza lavorare in presenza e altre che possono anche fare a meno della presenza e questo è sicuramente il primo, la prima questione. La seconda questione è sicuramente l'efficientamento che ci deve essere nell'ambito di questa attività e diciamo che quello che però dobbiamo, ecco io sentivo l'altro giorno una statistica nella quale si diceva che il 30% delle persone, lavoratori italiani, se l'aspetto del lavoro agile non venisse più garantito lascerebbero il posto di lavoro ed altre, mi pare un 26% di persone neossunte che invece vorrebbero proprio cambiare lavoro fare altro. Io credo che il lavoro ibrido debba intercettare questo malestere anche del lavoro possiamo dire, questo cambiamento, quindi questo equilibrio tra quello che è diciamo il lavoro e l'attività lavorativa come l'abbiamo sempre pensata e invece poi quello che sono i bisogni anche personali che forse è il concetto del nuovo welfare. Questo per farlo ci vuole un'organizzazione capace all'interno dell'azienda, però un'organizzazione capace che non è soltanto come mi pare di sentire un'organizzazione che va a limitare i costi della logistica, cioè faccio smart working, lavoro agile e quindi ho necessità di meno immobili, di meno uffici e quindi l'alternanza delle scrivanie. Non è solo questo, per essere efficienti bisogna creare un'organizzazione ad hoc che possa essere creata dall'interno e che deve efficientare quella produzione in ragione del fatto che si lavorerà in modo ibrido, cioè in parte in presenza e parte non in presenza. Una cosa importante credo che noi non dobbiamo però creare dei lavoratori iCloud, cioè non dobbiamo creare dei lavoratori in isolamento. La presenza è importante, il concetto di team è importante all'interno di un'azienda e quindi non dobbiamo emarginare questi lavoratori, perché emarginare i lavoratori che svolgono un'attività di lavoro libido può anche significare emarginare la stessa posizione lavorativa e questo non deve assolutamente accadere.